Cosa hanno detto di loro? I testimoni di Geova instillano nei loro figli elevati principi morali. Insegnano loro a evitare comportamenti, azioni e anche atteggiamenti che, seppur considerati normali nel mondo d'oggi, possono nuocere ai ragazzi stessi e ad altri. Li mettono quindi in guardia dai pericoli della droga, del fumo e dell'abuso di alcol. Riconoscono l'importanza dell'onestà e del duro lavoro. I testimoni di Geova insegnano ai figli a coltivare qualità morali, a rispettare le autorità, oltre che la dignità e i beni altrui, e a essere cittadini ossequenti alle leggi. Storia della religione in Ucraina, a cura di Petro Iaroczchi. I testimoni di Geova sono fermamente convinti che il Creatore conosce meglio di chiunque altro i principi da cui gli esseri umani dovrebbero farsi guidare. Isaia 48, 17 e 18 Pertanto, quando vengono illogiati a motivo della loro condotta, danno il merito a Lui. In Matteo 5, 16 Gesù disse Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre eccellenti opere e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Uno internazionale dei testi International Convention